bene siamo agli ottavi di finale toscana basilicata quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare sta diventando veramente bravo miglioro di settimana in settimana vediamo vediamo cosa succede dai ci guardiamo insieme questo ottavo di finale all'interno di fuori secondi ben trovati fuori secondi siamo agli ottavi di finale solo una di queste due regioni solo uno di questi due chef andrà direttamente ai quarti all'interno del ring di fuori secondi andiamo subito a presentarli alla mia sinistra culla dell'arte e della poesia viale alberati e colline mozzafiate un patrimonio paesaggistico e culinario invidiato ovviamente in tutto il mondo con prodotti come il pecorino la finocchiona la cinta senese il lardo di colonnata ed extravergini come il chianti classico d op o il lucca d op parliamo ovviamente della toscana bentornato alla mia destra una regione tanto piccola quanto ricca di prodotti e tradizioni dal caciocavallo silano al canestrato di moliterno il peperone crusco il casiedo e una tradizione olearia da oltre 27 cultivar autoctone una produzione d'eccellenza come il vultur d op ovviamente è la basilicata allora prima di iniziare dato che oggi una puntata molto particolare è un ottavo quindi uno di voi due verrà catapultato direttamente ai quarti allora iniziamo da te mi sono dimenticato qualche prodotto c'è qualcosa che ti solletica il palato allora io oggi ho prodotto il pecorino di piensa diciamo creato questo piatto che è un risotto appunto al latte e che verrà appunto mantecato con un pecorino di piensa quindi un in aggiunta qualche prodotto invece della tua meravigliosa terra che ho dimenticato di citare il pecorino di moliterno il canestrato di moliterno le olive infornate di ferrantina basta basta avevo capito ce ne sono tantissimi beh poi ovviamente all'interno di questa sfida enogastronomica ci sono degli elementi fondamentali per passare il turno questa è una gara oltre al piatto proposto dai nostri chef c'è un prodotto che voi dovete sindacabilmente scegliere il prodotto proposto ovviamente da cibo sapore d'italia e poi c'è diciamo insieme il vino almeno tre uno due tre il vino ragazzi collaborate con me però c'è il vino e quando si parla di vino la divina oggi vino divina chiara giornotti chiara oggi veramente hai superato te stessa un look strepitoso due regioni con due regioni molto diverse tra di loro partiamo dalla toscana che quasi non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista vitivinicolo come hai sottolineato una zona molto collinare ed è proprio in queste colline che la viticoltura prende piede e dà vita a tantissime denominazioni pensate ben 11 di ocg e 41 doc sono racchiuse nella nostra toscana a citarle non potremmo farle tutte ma finisce la puntata ovviamente c'è una predominanza netta dei vini rossi come appunto il chianti il brunello di montalcino il nobile di montepulciano il morellino di scansano ma appunto come diceva andrea sennò siamo qua tutta la puntata ma non mancano i bianchi e vi sorprenderò ma per passare invece alla basilicata qui parliamo di una denominazione di una terra con una sola di ocg che ovviamente dominata dall'aglianico del vulture che è proprio il vino iconico e solamente quattro doc ma non per questo non sono di grande qualità anzi perché è proprio un territorio molto montuoso quindi con la viticoltura che è anche sopra 500 metri sul livello del mare che sono tutte caratteristiche che assicurano una grande qualità e una grande predisposizione alla viticoltura quindi una gara apertissima una gara apertissima un ottavo di finale andiamo subito a ringraziare l'associazione nazionale città dell'olio l'associazione nazionale città del vino che collaborano a questo programma dove cerchiamo di veicolare il meglio che c'è nel nostro bel paese e anche i chef emergenti ricordiamo che appunto la maggior parte dei nostri chef sono stati selezionati dagli chef emergenti il concorso che si tiene appunto su tutta l'italia fatto da luigi cremona e lorenza vitali proprio per selezionare quei giovanissimi chef che hanno un talento particolare e che possono quindi aspirare ad arrivare molto molto avanti a proposito di talento un talento particolare un talento poi anche molto singolare perché oggi è una decisione importante ce l'ha la nostra giuria di qualità oggi li vedo in grande spolvero saranno cattivissimi perché questa è una sfida all'ultimo sangue solo uno di voi due andrà direttamente ai quarti presentiamoli grande responsabilità per la nostra giuria e parto salutando e ringraziando di nuovo per la sua presenza manuela zennaro appunto voce sia del excellence magazine sia di repubblica gusto che appunto è sul campo come esperta di enogastronomia da quanti anni manuela allora oddio non voglio dire la tua età diciamola insomma comunque no beh sono più di 25 anni ho iniziato assolutamente per caso e poi sono sbarcata anche nel mondo del vino siamo diciamo parte tutte quante noi della dell'associazione nazionale donne del vino e anche lorenza vitali che tu hai hai citato quindi insomma è giocare un po in casa per me assolutamente un'associazione molto importante che appunto racchiude proprio tutte le donne che hanno a che fare con il mondo del vino che si chiama appunto l'associazione donne del vino che poi ha tutte le delegate in tutta italia e manuela è una dei presidenti perché è la presidentessa del lazio ma passiamo invece a un'altra persona molto importante per il lazio perché si tratta di uno chef stellato nonostante le sue origini siano campane sto parlando di francesco a preda benvenuto e bentornato ci ho preso gusto e ci fa molto piacere allora raccontaci nuovamente appunto questo ristorante meraviglioso che è idilio che si trova nel cuore della capitale idilio a preda pochi passi dal pantheon infatti si trova all'interno del pantheon iconic hotel che è un autograf collection della marriott abbiamo anche una bellissima terrazza a sesto piano dove facciamo un format diverso proponiamo queste due cucine il nostro fiore all'occhiello è sicuramente idilio a preda il nostro ristorante stellato la mia è una cucina territoriale italiana però prende questi accenti grazie ai miei viaggi contaminata da tanti viaggi che tu hai fatto ero in giro per il mondo sono passato da da londra a tochio all'india mumbai e delhi quindi c'ho tanto da raccontare nel piatto e infatti vale veramente la pena vale il viaggio all'interno dei suoi piatti e adesso diamo di nuovo il bentornato anche alla nostra rosanna ferraro che anche qui si tratta di una giornalista enogastronomica focalizzata in particolar modo possiamo dire nel mondo dei vini ben tornata grazie mondo del vino nel quale sono entrata 32 anni fa quando un mio amico che sarebbe appena separato sfidanzato non me lo ricordo si è voluto segnare all'istia all'ais l'associazione italiana sommelia fra i corsi all'ais per andare a rimorchiare e lui non ha trovato la fidanzata infatti al secondo corso se n'è andato e io mi sono innamorata mi sono innamorata del vino ho lasciato il lavoro che facevo lavoravo per un'altra casa editrice ho lasciato il lavoro e mi sono buttata a capofitto in questo mondo e sono strafelice comunque sono contenta di tutte le scelte che ho fatto e di tutte le persone che incontro e se volete leggerla la trovate su vino type il sorteggio della giuria di qualità ha deciso che il primo concorrente a entrare nel ring di fuori secondi è la basilicata quindi accomodo di impostazione pronto alla grande sfida con te ci vediamo dopo a proposito di basilicata piccola ma meravigliosa un po come tutta la nostra meravigliosa italia ce l'andiamo a guardare la basilicata a tra poco di basilicata a tra poco Basilicata Luigi Destino dell'ononimo ristorante Destino a Melfi Allora innanzitutto bentornato Grazie mille Cosa stai preparando? Allora oggi propongo delle cannazze ovvero delle candele al peperone crusco con pomodorini arreganati in farcia di baccalà e ricotta e finocchietto selvatico Le cannazze insomma Famoso finocchietto selvatico Esattamente Allora Emanuela come lo vedi? Io penso subito all'abbinamento scusate Lo stavo dicendo già che sento la parola arreganato mi piace mi da l'idea di qualcosa Già ti piace Molto gustosa sì E Rosanna Confesso che io ho già assaggiato una cosa No Perché sì Perché sono passata lì ho visto i peperoni bruschi Ne ho visto uno che era proprio mi sorrideva Che ti chiamava E l'ho assaggiato ed è buonissimo perché sono scoperto passati E non lo sapevo mi spiace Sono passati fritti e sono buonissimi quindi mi aspetto grandi cose Bene bene quindi le aspettative sono altissime Il nostro chef stellato Francesco Io adoro il baccalà quindi Attendo con ansia Questa variante col cannolo Con E poi sotto forma di cannolo Ma è una pasta ripiena poi alla fine Quindi è interessante Poi il peperone brusco farà là Interessante E' anche interessante questa Questa parola che hai detto Variante Perché è una parola che ci ha Il borbo è andato mediaticamente Negli ultimi due anni Due anni e mezzo Quindi avete delle aspettative molto molto importanti Io però vorrei capire meglio Certo Questa ricetta Quindi un po' i passaggi salienti I passaggi più critici Più Allora partiamo nel fare La pasta al peperone brusco Quindi dobbiamo lavorare Prima i peperoni bruschi E poi dobbiamo impastare con Semola di grano duro La pasta con semola acqua E polvere di peperone brusco Quindi il peperone brusco E' essiccato Se è ancora molto umido Dobbiamo essiccarlo un pochettino di più Quindi aiutandoci con il forno E pestarlo E poi impastarlo insieme alla semola E all'acqua Otteniamo questi cilindri Ovvero queste cannazze Prendono il nome appunto dalle canne Dalle cannazze da canne Che sono con il foro centrale E ci prepariamo poi la farcia Con il baccalà di salato Un po' di ricotta Prezzemolo Sale e pepe Sale se è nel caso di aggiungerlo Lo aggiungiamo Se no vediamo un pochettino il baccalà Come è già sabato di suo E poi andiamo a farcire le nostre candele Perfetto E noi dobbiamo scoprire all'interno Di questa sfida no gastronomica Il piatto proposto allo chef Ma anche il vino Decise un abbinamento Da chiara Quindi tra qualche istante Scopriremo quale vino è scelto Come ho detto all'inizio E come molti di voi già sanno L'aglianico è uno dei vitigni Proprio tipici del territorio Della Basilicata Ma in questo caso abbiamo un aglianico Vinificato in maniera particolare Perché è vinificato in rosa Quindi con un'espressione Assolutamente differente Come possiamo vedere però Lascia le sue tracce Le sue impronte molto forti A partire anche dal colore Che a differenza di molti rosati Ha un colore molto più carico Brillante Intenso rispetto ai rosati Magari provenzali I quali siamo abituati Che vertono più sulla buccia di cipolla O su colori molto tenui Qui abbiamo questo colore importante Che già ci racconta qualcosa Del vino stesso Che andremo a degustare E infatti abbiamo questa espressione Che poi riprende Anche alcuni dei sentori Che troviamo nel rosso Che sono queste bacche Di profumi di frutta rossa Così come anche di fiori essiccati E anche delle spezie Al palato È un vino che riesce ad avere Una struttura ma ovviamente Molto più delicata Molto più armonica Nell'accompagnare L'acidità Alla complessità Rispetto a quello che potrebbe essere Nel rosso Che è molto più intenso E molto più strutturato Nell'aglianico Qui abbiamo questa delicatezza in più Questa facilità di beva Che Ben si va a sposare Secondo me Con il piatto dello chef Dove appunto troviamo comunque Come elemento principale Il baccalà Beh assolutamente Quindi delle aspettative altissime Vedo il nostro Luigi Che proprio Stai negli ultimi dieci secondi Per usare una terminologia Adeguata a questa sfida Che è una sfida Che gioca un po' sul pugilato E sulla parte enogastronomica Se tu sei pronto Possiamo servire ovviamente I piatti alla nostra giuria di qualità Prego Questa è la proposta Questa è la proposta Della Basilicata De Luigi Destino Del ristorante Destino Vi ricordo che questa è Un'eliminazione diretta Sono degli ottavi Quindi solo una Delle due regioni Tra Toscana e Basilicata Andrà direttamente Ai quarti di finale Mentre la nostra giuria di qualità Assaggia questo piatto Con questo impiattamento Così singolare e colorato Io mi dirigo Come faccio sempre Verso colui Che tutto sa E tutto conosce Non a caso Lo chiamiamo Virgilio Il mio amico Giuseppe Riemma Vi ricordiamo che all'interno Di questa sfida enogastronomica È assolutamente necessario Che fra tre prodotti Proposti da Cibo Sapore d'Italia Almeno uno Venga utilizzato Dallo chef E qual è il prodotto Che il nostro chef Luigi Destino Ha utilizzato Per il piatto proposto Allora Il piatto che ha utilizzato Il prodotto che ha utilizzato È il peperone crusco Cosa possiamo dire Del peperone crusco Che è buonissimo Che è buonissimo Assolutamente sì Proviene dalle Antille Viene denominato Loro rosso della Basilicata È un peperone È una derivazione Il peperone crusco È un prodotto Che deriva dalla lavorazione Di un peperone originario Della zona di Senise Quindi un paese Alle pendici del Pollino Quindi È una zona molto importante È una zona montana Collinare È un prodotto Che ha delle caratteristiche particolari A parte il fatto Che ultimamente È diventato un prodotto Di eccellenza Sempre più utilizzato Dagli chef E sempre più apprezzato Dai consumatori È particolare perché Perché Intanto inganna Un po' come La melanzana rossa Un altro prodotto Della Basilicata Che sembra Un pomodoro Ma una melanzana In questa cosa Il peperone Sembra essere molto piccante Ma in realtà È un peperone Molto dolce La caratteristica è Di avere una scarsa Quantità di acqua Quindi è un prodotto Che già di suo Si presta all'essiccazione A questa lavorazione Perché crusco? Perché Questo gli deriva dal fatto Che viene Dopo l'essiccazione Viene fritto E raggiunge Questa croccantezza Estrema Quasi a diventare Una patatina Una sfoglia Che si scioglie in bocca Per quanto concerne La lavorazione Cosa diciamo? Viene raccolto Ad agosto Viene essiccato Dopo la raccolta Viene posto In alcuni luoghi bui E asciutti Per evitare Che prenda appunto Che si possa essiccare lentamente Che non prenda Altra umidità Dopodiché Viene appreso in trecce E fatto essiccare All'aria E al sole Questo dovrebbe essere Artigianalmente Il metodo Con cui si dovrebbe essiccare Ma viene fatto Anche viene proposto Anche un passaggio Al forno Questo gli conferisce Questa Questa particolare consistenza Questa asciuttezza E poi Che si esalta Al massimo Con la frittura Nell'olio D'oliva Italiano E vediamo Cerchiamo di capire Se tutte queste nozioni Meravigliose Che ci hai appena detto Allora Nel frattempo Tutti con il boccato in bocca Vediamo chi è Che posso interpellare Per primo Perché Insomma Non è semplice Allora Francesco L'unico Prego Che ne pensi di questo piatto Del piatto Della Basilicata All'aspetto molto interessante Ha giocato sicuramente Con dei prodotti lineari Un classico Da mettere baccalà Pomodoro Crusco Poi aggiunto anche Questa oliva Disidratata Che alla fine Che dà questo Sentore interessante Molto goloso Un piatto molto goloso Interessante E' seguito bene Goloso Manuela Tengo Rosanna Per ultima Perché già L'aveva spizzicato Quindi insomma Io anche Lo ritengo Molto molto goloso Prima se Mi avessi consultata Avevo il pomodorino A 2000 gradi Tipo Fantozzi Stavo A fare Una corsa Per tutto lo studio No Devo dire Allora Non lo finisco Solo per questioni dietetiche Perché In effetti Insomma In voglia Complimenti Manuela A te Una domanda Anche Sì Allora L'ho già Assaggiato Ed è goloso Anche il vino Perché ha comunque Questa bella nota Fruttata Che si fa avanti E quindi E però Ha anche Una bellissima Una bellissima acidità Che quindi Poi Insomma Anche Riesce ad accompagnare Tutto quanto Il piatto Quindi ancora una volta Insomma Ci hai preso Brava Chiara Rosanna Di questo piatto Mi piacciono Parecchie cose Mi piace anche La differenza Tra le consistenze Cioè Le parti esterne Sono un pochino Più croccanti Della La pasta E Legano Con Questa parte Del peperone Crusco Mentre la parte interna Ovviamente Rimane più morbida Scusate Ma io continuo A salivare E' buono E' per quello Che ho scelto Un vino con l'acidità Perché l'acidità Aiuta a pulire la bocca Proprio quando salivi Funziona A parte l'ustione Perché anche lì Pure io stavo Un attimo A 300 gradi Ma Ha provato Ha provato a fare fuori I giudici Comunque Funziona benissimo Perché continuo Ripeto Ho bevuto il vino Quindi continuo a salivare Questo vuol dire Che questo vino Fa il suo lavoro Cioè pulisce la bocca E ti aiuta Ad assaporare meglio Il boccone successivo Perché non è contaminato Dai sapori precedenti Quindi ogni volta Anche spento l'incendio Anche spento l'incendio Io volevo anche un giudizio estetico E questo lo chiedo Adapreda Che è il re del piatto Diciamo da mangiare Anche con gli occhi Esteticamente Esteticamente L'ho detto anche prima Si presenta molto bene Poi riprendo anche il discorso Un po' Delle crequantezze Quindi E' un piatto che si fa gustare bene Perché comunque ha questi sentori Anche un po' Particolari Che danno sulla nota croccante Quindi è piacevole mangiarlo Ma mancava forse un po' di salsa Per renderlo ancora più armonico Un po' di salsa Perché alla fine Quando con i bocconi Voi avanti Poi ti risulta Un pochettino monotono Può avere azzardato Anche con qualche nota Perché tu beri poco vino Perché se tu In tre mesi Hai ragione Facessi più intervalli Con un sorso di vino Questo effetto non l'avresti Un piatto buono Anche bello da vedere Tra qualche istante Nel ring Di fuori secondi Entrerà in campo Il secondo sfidante La Toscana La Toscana Dopo aver guardato queste bellezze, veramente ragazzi, che posti meravigliosi che ci sono. Stupendi e tutti da visitare, però adesso vorrei cercare di capire meglio tutta la preparazione che c'è dietro questo piatto. Allora, la preparazione partiamo da un burro allo scalogno, dove viene appunto tostato il riso, cosa fondamentale per fare un buon riso, si sala leggermente e si manda in cottura appunto con del latte, latte e brodo vegetale. Si ultima praticamente con, mantecandolo appunto con questo pecorino di pienza, burro e lo andremo a impiattare. Una volta sopra praticamente adeggeremo una polvere di cedro, liquidizia e cappero essiccato, dei capperi fritti, della salicornia oppure asparago di mare e sopra andremo a grattugiare appunto questa buttarga di mutine. Quindi salibornia. Salicornia. No, salicornia. Salicornia. Salicornia, dai, bravi. Asparago di mare perché... Perdonatemi però insomma. Stasera andrò... Facciamogli spiegare per Andrea che cos'è la salicornia. Esatto, aiutami ti prego, così stasera farò bella figura a casa. La salicornia appunto pure asparago di mare nasce proprio in queste rocce oppure spiagge dove viene appunto toccato, se così si può dire, dal mare e quindi è ricco di iodio, è ricco di sale e ha una consistenza diciamo, come dire, molto masticabile e dà appunto questa spinta diciamo di sapidità al piatto. Che sarà un piatto appunto molto ricco di umami, quindi molto ricco di sapore, però avrà una parte dolce sotto e quindi ci sarà questo contrasto che a mio avviso la prima volta che si assaggia le papille magari potrebbero andare un po' in confusione. Poi pian piano invece sono sempre più, come dire, addolcite. Diciamo all'inizio le papille impazziscono. Ci ha già fatto venire bar. Sei un venditore meraviglioso ovviamente dei tuoi piatti. Allora Francesco velocemente ce l'ha descritto in modo molto... Molto coraggioso. Molto coraggioso e esastivo. Poi a usare ingredienti così belli, diciamo, incisivi perché anche la liquirizia mi spaventa un pochettino perché la liquirizia è particolare, è grassa, ti rimane sul palato, quindi se non l'aiuti a scendere ti rimane in bocca e quindi a volte sovrasta molto gli altri ingredienti. Quindi però magari il pecorino aiuterà anche questo, anche la bottarca, poi ci ha messo anche i capperi molto sapidi, quindi diciamo che... Ci ha creato delle grandi aspettative. Sì, sì, attendiamo. Allora, Rosanna, questa volta non hai assaggiato nulla prima, no? Sei andata a rubare i capperi. Non hai rubato i capperi. Però sono andata a curiosare tra tutti gli ingredienti e in effetti io adoro la liquirizia, la adoro, però diciamo sentirla raccontare in mezzo ad una serie di ingredienti, quali ad esempio la bottarga, che ti porta in un mondo totalmente diverso, altro, mi crea un attimo di... No, non mi spaventa, figurati, anzi, stiamo qui per questo. Però sì, insomma, un bel gioco di contrasti. Bisogna saperci fare, è un po' un magheggio. È un magheggio che è un termine assolutamente esaustivo. Io invece sono molto curiosa perché non c'entra niente ovviamente con il sapore della bottarga. Però ho avuto modo, tanti anni fa, di assaggiare un piatto di un altro chef stellato che consisteva in lumache con una spolverata appunto di liquirizia. Stavano, io ho detto Dio, stava benissimo. Quindi adesso voglio capire l'abbinamento liquirizia-bottarga se è altrettanto vincente, ma secondo me sì. Io vorrei capire come gli è venuto in mente. Sì, sì, esattamente. Allora, se posso, mi è venuto in mente, diciamo, ho preso anche un po' di parte delle mie origini, quindi marchigiano. Noi siamo una città di mare. Ecco perché c'è un feeling. Esatto. Quindi visto che la Toscana, come dicevo, non è solamente terra e c'è anche mare, ho voluto utilizzare questi prodotti per fare questo appunto insieme di cose. E ho provato, ho testato, ho cercato di trovare un giusto bilanciamento anche delle polveri, perché la cosa difficile è sul piatto, al di là del risotto, che comunque è un piatto complesso, sono proprio le polveri. Perché bilanciarle bene non è stato semplice. Quindi utilizzare appunto una grammatura precisa è stato forse quello il punto cardine del piatto. Assolutamente. Questi, diciamo, questi giovani, tra virgolette, alcuni sono anche molto affermati chef, sperimentano e osano continuamente, che credo che sia una cosa fondamentale. Cioè uno scopre il buon cibo, i piatti meravigliosi di giorno in giorno imparando, che insomma non si smette mai di imparare. Io vorrei invece sapere, e qui è tosta, qui è assolutamente tosta, perché in questa sfida è assolutamente fondamentale che ci sia un vino abbinato al piatto del nostro chef toscano. Io non vorrei essere nei tuoi panni. Con tutti questi ingredienti, queste polveri e anche contrastanti, non sarà facile. Vado alla mia possibilità a scegliere il vino, però vado via chiedendoti una curiosità. Prego. Se è un piatto che tu hai sperimentato per questa occasione, se è un piatto proprio che è nel vostro menù. Allora, questo è un piatto che è nel nostro menù, ma l'ho leggermente modificato, appunto utilizzando questo pecorino, cosa che noi invece non utilizziamo, e mettendoci appunto la salicornia, che per me è un elemento appunto valorizzante. La salicornia che io conoscevo perfettamente, come abbiamo capito e come hanno capito anche i nostri amici a casa. Qual è il vino che hai deciso di abbinare con questo piatto così particolare e così creativo? Allora, come avevo detto all'introduzione, la Toscana è tipica terra di rossi, ma visti gli ingredienti presenti nel piatto, ho usato invece l'abbinamento con un bianco. Ma ci voleva un bianco comunque di struttura, un bianco comunque con dei sentori importanti. Ho scelto un vermentino, che tra l'altro è uno dei vitigni che in Toscana sta crescendo maggiormente, sia come popolarità, sia come qualità. Perché le cantine si stanno concentrando molto su questa uva bianca piena di sorprese, che può essere appunto da una versione più fresca, più immediata, più, chiamiamola, gentile e beverina. Ti piace questo termine? Affino ad arrivare invece a strutture e complessità importanti. Quello che abbiamo scelto oggi, che ho scelto oggi, è un vermentino che però viene affinato in ceramica. Che cosa gli dà la ceramica rispetto all'acciaio, dove appunto è il suo contenitore per l'affinamento più usuale? La ceramica permette di traspirare maggiormente, un po' come quando affinano in legno, ma è un contenitore neutro, quindi non cede nessun sentore. Quindi tende a esaltare il vitigno stesso, ma al tempo stesso a fargli sviluppare maggior complessità sia al naso, sia ai sentori, che vanno a amplificare una frutta più matura, più complessa, quindi più tropicale. Quindi si sente molto una frutta bella, tipo papaya, mango, un'albicocca secca, anche note un po' affumicate, un po' speziate, che comunque escono fuori, che spero vadano ovviamente a sposarsi anche con la famosa liquirizia. Al tempo stesso troviamo sapidità e molta acidità, che quindi viene comunque utilissima per cercare di bilanciare comunque questi elementi, tra cui per esempio la liquirizia, che hanno bisogno di qualcosa che li vada a controbilanciare proprio nel palato per asciugarli. Assolutamente, vediamo se la scelta proposta da Chiara sia una scelta azzeccata ed adeguata, ma questo dipende solo ed esclusivamente dalla nostra giuria di qualità. Io credo che Marco ci siamo ormai, siamo, visto che tra l'altro anche davi delle bottarelle sotto al piatto. Sì, è semplicemente per impiattare bene il riso e mantenerlo omogeneo sulla linea dell'impiattamento. Quindi per impiattare bene il riso gli do delle piccole botte. No, è una cosa singolare, ma io sto cercando di apprendere di settimana in settimana insieme a voi, diciamo, quelle che sono le meraviglie della cucina italiana, in questo caso della cucina toscana. Possiamo proporre i piatti alla nostra giuria di qualità, una presentazione notevole, e mentre loro iniziano a degustare i piatti, io mi sposto, come faccio sempre, e mi direziono verso l'uomo che tutto sa. Quasi tutto, non esageriamo perché poi mi si monta la testa. Allora, caro il mio Giuseppe Virgilio Ariemma, Sappiamo che questa è una competizione all'interno della quale ci sono tre prodotti per ogni regione, proposti ovviamente da Cibossa fuori d'Italia, e lo chef ne deve scegliere almeno uno. Qual è il prodotto scelto da Marco? Allora, il prodotto scelto dallo chef è un prodotto molto particolare, è un formaggio in particolare, è il pecorino di Pienza, possiamo dire che è il formaggio più importante e più noto della Toscana, e localizziamolo, cioè parliamo delle colline toscane, è un territorio molto dolce, molto tenue, con un clima particolarmente soft, quindi soffice. Abbiamo delle pecore, 3.000 pecore di razza sarda, che sono le pecore che vengono scelte con questo tipo di latte, per fare quel tipo di latte e per produrre quel tipo di formaggio. Il pascolo è un pascolo che conferisce sapore di castagna, di alloro, di erbe collinari, e è un formaggio che può avere una stagionatura diversa, può essere un formaggio a pasta molle, quindi di 30 giorni, quindi fresco, un semistagionato che va da 2-5 mesi, oppure una versione più stagionata, oltre i 5 mesi, con un sapore un po' più intenso, più forte. La crosta può assumere diverse colorazioni, perché la lavorazione può essere differente, possiamo avere un pecorino ricoperto con succo di pomodoro, con olio d'oliva, oppure con altre sostanze, vinacce, fieno, foglie di noci, per affinarlo e conferire un sapore particolare. Nel caso dello chef ha scelto un semistagionato, diciamo, un pecorino a crosta nera, che ha una particolarità, è una pasta molto compatta, friabile, una leggera avena acidula, quindi si presta bene per la mantecatura in un risotto. È un formaggio eccellente, veniva apprezzato anticamente anche da Lorenzo il Magnifico, che spesso si recava nelle zone, nelle colline senesi, cioè nelle colline di Pienza, per degustarlo ed esaltarne le qualità. Beh, sembra che il piatto abbia sortito al suo effetto, è stato gustato e mangiato in modo molto, con un buon appetito da parte dei nostri giudici. Allora, inizierei con Manuela. Manuela, raccontaci il piatto e anche l'abbinamento, ovviamente, con il vino di Chiara. Sì, no, io parto proprio dall'abbinamento perché ero curiosa, nel senso che, allora, la bottarga è un po' la bestia nera quando si tratta di abbinare dei vini. È uno di quegli ingredienti come il carciofo, ad esempio, che sono veramente, sembrano impossibili. In più qua c'era anche la liquerizia. E invece, oddio, si sente di più la liquerizia rispetto alla bottarga. Devo dire che la liquerizia qui copre un pochino i vari sapori. Però questo vino io lo trovo assolutamente appropriato. Devo dire che si sposa benissimo, perché riesce veramente a contrastare questa persistenza della liquerizia che è notevole, che io ancora sto avvertendo e ho terminato di gustare il piatto già da un po'. Vedo che c'è una bellissima tecnica, una bellissima mano. Forse un pochino sbilanciato, appunto, nei sapori, perché io la salicornia, ad esempio, la sento poco, il cappero lo sento poco, sento molto, appunto, la liquerizia. Trovando il modo di smorzare questo sentore sarebbe, secondo me, meglio. Però, ecco, non sono io l'esperta. Però, per quanto riguarda l'abbinamento, ci sta, ci sta tutto. Rosanna, anche tu, per quanto riguarda la liquerizia, avevi qualche dubbio? Io ho le mie perplessità, perplessità che, ahimè, vedo confermate. Torniamo indietro, anzi, partiamo dal vino. Vermentino è un vino di costa, un vino che evoca i pesce, l'estate, un bicchiere fresco, bordo mare, eccetera. Quindi, con una presenza di bottarga sicuramente un pochino più importante e prevalente rispetto a questa liquerizia, avrebbe dato il meglio di sé. Qui, il problema è questo piatto. Secondo me, continuo a essere convinta che la liquerizia è una bestia, una brutta bestia. Quindi, o usarla, sì, forse con una, veramente con una gran leggerezza, con mano molto leggera, soffoca un po' il sapore del mare, che in questo caso sarebbe andato benissimo, e non, e va un po' in rotta di collisione anche con questo cappero. C'è, allora... Qualche dubbio, possiamo dire. Qualche dubbio sul piatto, sebbene, secondo me, ci sia una mano sotto di buon professionista. Allora, da chef stellato a chef, quindi da Francesco a Marco. Si svelò un po' il problema della liquerizia, perché io uso molto le spezie. La liquerizia ha quel problema che quando poi finisci il boccone, ti rimane sul palato, non va via, quindi perciò la senti persistente. Io voglio dire che questo è un piatto eseguito molto bene. È vero che dopo vari bocconi riesci a percepire, perché quando prendi il cappero... Quello, come ci aveva detto lui... Sì, sì, è vero, lo devi un attimino un po' conoscere. Quindi quando prendi il cappero ti dà questa nota sapita, interessante. Sì, ci avrei messo un po' di bottarga in più, però questo è un, magari, è un mio giudizio. Però l'ho trovato tecnicamente fatto bene. Il problema della liquerizia è quello, nonostante ne metti poca, ti rimane sul palato. Quindi è la scelta, ho capito. Sì, la senti sempre persistente rispetto agli altri ingredienti, a meno che non ci sia una nota molto grassa, forse ancora più pecorino, forse la scelta del latte sia stata interessante, magari usiamo un latte ancora più grasso, che ti aiutava sicuramente di più a spazzare via dal palato questa nota di liquerizia. Nel complesso i sentori sono messi al posto giusto. L'abbinamento e poi velocemente anche con Rosanna, l'abbinamento con il vino. L'abbinamento con il vino è veramente molto complesso, però diciamo che ci siamo andati vicini. Diciamo che me li hanno messi tutti gli ingredienti in queste trasmissioni. L'ingrediente difficile dell'abbinamento c'è. Non so veramente in questo piatto che cosa avrei messo, però diciamo che queste note con il vino riescono a sposare abbastanza. Non era facile. Non è assolutamente facile. Assolutamente. Va bene, io Marco per il momento ti ringrazio, se ci puoi aspettare dietro, perché siamo per giungere al momento conclusivo dell'odierna puntata di fuori secondi. Vi ricordo che questo è un ottavo di finale, solo una delle due regioni approderà direttamente ai quarti. Il tutto ovviamente è dovuto solo da loro, quindi grande responsabilità, grande responsabilità per la nostra giuria, perché qui insomma si va avanti, i quarti di finale comincia a essere un posto abbastanza importante nella prima edizione di fuori secondi e allora chiamiamo subito i concorrenti. Entra in campo per la Toscana Marco Anselmi, ristorante connubio di Firenze. Questi sono i contendenti nel dodicesimo round del ring di fuori i secondi. Per la Basilicata Luigi Destino, ristorante Destino di Melfi. Io voglio un dato che insomma stiamo salendo e i quarti di finale cominciano a essere molto appetibili. Detto fra di noi, secondo te chi ha fatto il piatto migliore? Beh comunque è una sfida con due piatti ben distinti e separati appunto va a quello che è tutta la varietà dei prodotti della nostra Italia. Quindi insomma è una risposta democratica assolutamente che ti fa onore. Sì, sì. La tua? Beh diciamo che dire, sono due piatti che uno magari rappresenta molto la tradizione e io ho voluto un po' usare di più sicuramente rispetto utilizzando appunto sempre i prodotti territoriali toscani. Quindi vediamo. Vediamo, insomma due sportivi ragazzi. Veramente che è il bello poi di questo programma dove cerchiamo di piccolare al meglio le eccellenze no gastronomiche portando avanti le future eccellenze o le future di oggi che ci sono per quanto riguarda gli chef. Quindi innanzitutto complimenti a entrambi. Però è il momento, è il vostro momento, è una scelta, va fatta. Inizierei con Rosanna. Adesso non è più la liquerizia quindi può essere un giudizio assolutamente democratico. Prego Rosanna. Giudizio democratico. Giudizio molto ponderato, ci ho pensato molto perché devi trovare una chiave di lettura, di interpretazione di ogni cosa. Non è può essere abbandonata a se stessa. Qui noi, dove mi sono appigliata, aggrappata, al fatto che noi dobbiamo valorizzare i prodotti del territorio. Ah certo. Fra i due... Fra i due, ti faccio... Tu sei una... Lei è una sparatissima, nel senso assolutamente decisa. È uno di quei giudici che ha proprio le idee chiarissime come sempre. No, veramente, perché questo ti fa onore. Quindi scegli già il primo assaggio, già scelto. E io ti faccio la domanda. Rosanna, tra Toscana e Basilicata il tuo voto va? Alla Basilicata. Alla Basilicata. Alla Basilicata, per usare un termine... Senza indugio proprio. Senza indugio, non lo sappiamo, non è così. Diciamo un gancio, un montante, vediamo... Però ci sono ancora due voti che deve esprimere la nostra giuria di qualità. Quindi vediamo che succede e ascoltiamo Manuela. Allora, intanto complimenti perché mi sono piaciuti tutti e due i piatti. Devo dire, insomma, è stata molto divertente questa competizione. Mi sono divertita anche ad assaggiarli. Però io questa volta scelgo il coraggio e... E allora ti devo fare la domanda. E allora, Manuela, ti devo fare... Non fai fare la domanda fatidica da Andrea. No, perché le anticipazioni vanno bene, ma io ti devo fare la domanda che il nostro notaio poi metterà a verbale. Tra Toscana e Basilicata il voto di Manuela va? Alla Toscana. Alla Toscana. Ed è uno a uno un pareggio, quindi... Un bel jab, devo dire, anche da parte tua. Ragazzi, è il momento finale. Solo uno di voi due approverà direttamente ai quarti. E tutto questo dipende solo ed esclusivamente dal voto del nostro chef stellato, Francesco. Eh, tocca a te. Di nuovo messo in mezzo da due donne. Esattamente. Ironia della sorte. Vabbè, intanto faccio i complimenti ad entrambi perché comunque hanno saputo rappresentare bene le loro regioni di rappresentanza. E quindi mi fa piacere. Si sono visti gli ingredienti veri, si sono visti veramente anche l'anima un po'. Delle regioni, no? Sì, delle regioni, ma anche la loro anima. Hanno rappresentato alla grande anche un po' gli spunti della Toscana che magari si è mosso un po' in un'altra regione perché lui proviene da un'altra regione. Però è stato interessante anche quello perché alla fine bisogna anche prendere un pochettino. Quindi i due piatti sono completamente diversi. Uno è molto goloso e c'è, diciamo, non banale, però ha utilizzato dei prodotti lineari. L'altro ha usato un pochettino di più, entrambi con tanta tecnica. Entrambi con tanta tecnica, però per usare un termine pugilistico uno dei due deve avere una tecnica leggermente più funzionale. Quindi, Francesco, tra Toscana e Basilicata, il tuo voto va? E voglio premiare il coraggio della Toscana. Della Toscana. Allora, complimenti. Complimenti anche a te perché hai fatto veramente un piatto meraviglioso. La Toscana approva direttamente ai quarti all'interno di Fuori Secondi. Allora, ringraziamo i nostri due chef. La ringraziamo Luigi per aver partecipato. Luigi Destino, grazie. È stato veramente un piacere. Ringraziamo Marco Ansermi che ritroveremo ai quarti. Grazie a voi. Ringraziamo ovviamente la nostra super giuria di qualità. Quindi Manuela, Francesco e Rosanna. Grazie per aver partecipato. La prossima volta spero tu non sei in mezzo a fare le donne. Se no, tocca sempre a te l'ardo compito. Ringrazio Virgilio alias, ovviamente, Giuseppe Ariemma. Grazie a voi. Ma è questo il tuo nome e questo resterà. E poi ringrazio a lei, splendida, meravigliosa. È riuscita a zeccarla anche questa volta. Non so come fa. Ringrazio. Qui proprio con il rotto della cupola. Non ce l'hai fatta. Alla prossima, grazie. Grazie a tutti.